musica bella ragazzi eccoci di nuovo qui in un nuovo video di Oddworld Apes Odyssey ricominciamo proprio da dove eravamo arrivati prendiamo la nostra bomba ok ci andiamo giù ci aspetta questo slick infame che ci ha sparato subito nell'altro video e ci ha quasi ucciso via vincibile salvati ecco fatto si entra di qui e anche questo zoolag entriamo nel prossimo zoolag 3 qui ed eccoci nel quarto zoolag più difficile qui a destra andiamo qui sotto suona per il servizio ecco bel servizio aiuto 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 non si svegliava siamo talmente brutti che non ci guardano si girano dall'altra parte bloccati muori tu muori pure tu attenzione è morto anche tu bravi muto con che fanno il tuo dovere e non no 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 ok eh no dopo tutti libero col nostro amico insieme no aspettiamo vediamo se se la facciamo eh bloccati no boom mamma mia ce l'abbiamo fatta giusto in tempo ragazzi lascivi dania ciao ciao seguimi ok seguimi seguimi ok ok liberi ma ma guardate devo riaprirlo oh ma sei un mona puoi entrare lì dentro tre volte l'ho dovuto avvenire guarda un po' te allora dobbiamo far esplodere questo tizio infame non è quando mai preciso sotto i piedi canili per gli slog eh andiamo qua divertirci in mezzo agli slog eh guarda morio all'esercito guarda un altro mi sono andato non sai andato non manca questo ok dai che esplode Perfetto Tutti muorti Li prendo subito Corriamo di qua Appena arrivati già ci vogliono sbranare Eccolo qua quello che dicevo nell'altro video che sfuga all'improvviso Che viziarde Vieni qua Vediamo se ci sono altri slog No niente seguito Questo Ciao Seguimi Ok Vieni con me corre Seguimi Ok Se io ti dico seguimi Fidati no Mica ti faccio morire Ok C'ha paura a scendere Aspetta Ok Ciao Ciao Seguimi Ok Facciamolo venire di qua Seguimi Ok Aspetta Ok Andiamo a prendere l'ultimo Ciao 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 Seguimi Seguimi Ok Tutto doppio Ok Facciamo rimbambire Liberti Liberti Anche voi tre E Ne manca uno ragazzi E voi direte Ma snake Te ne sei scordato uno per strada Guarda che incapace E invece no L'ultimo Ci aspetta proprio nel livello finale Quindi Siamo sicuri di averli salvati tutti Sopra Dentro Di qua No Ma infame Mi voleva uccidere Non ce l'ha fatta Se mi uccideva Rosicavo Corri 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 Non ti fregare di nulla Ce l'abbiamo fatta Quella leva era per la Per andare sotto E prendere le bune Se servissero E ora qua pure si fa un po' Il po' di esplosioni E roba varia Aiuta 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 Ahahah Riggiri Guardate mo Sloth A volontà Ragazzi Banno Cifro Cifro Che e 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 questi sono finiti e 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 ricaricare perché se ne è un casino riproviamo questa volta basta errori e siamo a 2p e 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 ecco fatto anche qui e 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 tanto oh oh tranquilli quello non è da salvare qui non c'è niente no? ok cosa? boom dammi ancora il potere ok cosa? abbiamo fatto tripla kill con una mina facciamo invidia ai giocatori di battlefield e e e e e cosa conviene fare? per sapere per sapere per un altro si vediamo così NO! ok perfetto non mi pare per giocare per sapere morigani e ora vediamo qui cosa succede trovai l'interruttore che isolava l'elettricità era ormai giunta l'ora da affrontare la verità e finalmente abbiamo tolto l'energia elettrica alla fabbrica più odiosa del pianeta mudos i mattatoi ernia e ora non ci basta non ci resta solo che fare il livello finale ma questo lo vedremo nel prossimo video in cui finalmente finiremo il walltrut di odor dei psodici speriamo spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo bella ragazzi